Un incendio divampato nella mattinata di domenica 20 agosto intorno alle 8.30 in via Belvedere a Crote di Strambino. Le fiamme hanno avvolto completamente e le rottoballe che erano stipate nel capannone di una cascina, situate in mezzo al prato, danneggiando anche la struttura che le ricopriva. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vrea che hanno domato e spento l'incendio, ancora in corso l'operazione di bonifica. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.